Salve, buongiorno, benvenuti. Grazie Leonardo per questa magnifica giornata e soprattutto grazie da cittadino di questa regione per lo sforzo compiuto. Invito a salire sul parco il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Credo un'emozione un po' anche per lei che ci ha creduto. A un anno dall'annuncio del progetto il già rettore Gaetano Manfredi, oggi il ministro dell'Università della Ricerca ed eravamo qui un anno fa. Sono veramente contento anche di vedere qui Roberto Cingolani perché sono stato da lui all'IT di Genova tante volte e sapere che sta contribuendo alla crescita anche di questo territorio con la sua professionalità è una cosa bellissima. E ovviamente saluto tutti, qui ci sono tutte le categorie di un territorio che ancora una volta dimostra che facendo rete insieme ci si può riscattare. E il grande ringraziamento va a chi nei manager di questo stabilimento e di questo grande gruppo che è Leonardo hanno sempre la visione di andare un po' più avanti di quella che è la realtà attuale. Io credo che l'investimento nella tecnologia e gli investimenti nella ricerca alla fine sono il valore aggiunto del made in Italy ovunque. Perché quello che noi facciamo lo facciamo bene grazie a ricerca e sviluppo e grazie all'alta formazione delle nostre manovalanze. Beh queste persone, le nostre maestranze possono giovare di nuovi strumenti grazie alla ricerca e allo sviluppo. E ovunque io vada da Ministro degli Esteri che da quest'anno la farnesina anche tutti quanti le competenze sull'export, sull'internazionalizzazione, quando tu nomini un'azienda come Leonardo ma come le altre nostre eccellenze partecipate di Stato da Enel, Terna, Eni, Fincantieri, quando le nomini quello che si illumina negli occhi del tuo interlocutore è il fatto che hai di fronte il rappresentante di un paese che ha aziende che fanno cose fatte bene. E le fanno bene, penso di poterlo dire con certezza, perché hanno sempre investito in ricerca e sviluppo per far crescere il proprio prodotto. E questo prodotto fatto bene crea nuovi posti di lavoro per un territorio come questo e spero che crei anche nuovi posti di lavoro per gli studenti che da lunedì vengono a studiare qui, vengono a partecipare a corsi importanti qui, avranno insegnamento dai loro docenti, ma anche da coloro che in queste fabbriche ci lavorano ogni giorno e conoscono i fatti concreti, che poi è la differenza che c'è tra la teoria e la pratica. Vedo tante persone che lavorano in questi importanti stabilimenti, loro hanno una conoscenza di quello che c'è scritto sui libri e quello che si deve applicare, che è unica perché lo fanno da generazioni. Qui ci saranno almeno due generazioni, barra tre generazioni di persone che hanno lavorato in questi stabilimenti e che hanno fatto grandi prodotti che fanno sviluppare posti di lavoro in tutto il mondo. Ecco, Leonardo è una grande eccellenza, l'abbiamo sentito, è una delle principali aziende italiane. Nel complesso però l'Italia investe solo l'1,3% in ricerca e sviluppo del suo PIL complessivo, dato che ci colloca a uno degli ultimi posti nei paesi Oxe. Cosa si può fare per migliorare questo dato, soprattutto in un'economia che è fatta, come sappiamo, spesso di piccole e medie imprese? Sicuramente dobbiamo fare di più negli investimenti diretti nella ricerca e sono sicuro, senza voler ovviamente passare la palla avvelenata a Gaetano, che il nuovo ministro dell'università e della ricerca, che abbiamo diviso dall'istruzione proprio per dare un focus specifico alla sua mission sull'università e della ricerca, saprà migliorare le condizioni. Però una cosa la diceva il ministro e la voglio ripetere, non esiste più una barriera tra investimenti nella ricerca in quanto investimenti pubblici e investimenti nella ricerca in quanto investimenti privati. Leonardo che cos'è? Investe in ricerca e sviluppo, possiamo dire che è privata solo perché è di diritto privato, eppure lo Stato orgogliosamente, con orgoglio, ne possiede le azioni, ne possiede la partecipazione. E soprattutto, io ho visto, Alessandro Profumo viaggia sicuramente più di qualsiasi ministro degli esteri, perché incontrano continuamente nel mondo nuovi soggetti che possono essere un'occasione di mercato. La loro competizione con i concorrenti, ma anche la ricerca continua di portare un prodotto sul mercato, gli permette una certa anche velocità nel fare investimenti nella ricerca e lo sviluppo. Noi oggi siamo qui perché, si è detto per anni, si è detto tanto e lo continuiamo a dire, bisognava portare la università nella fabbrica e la fabbrica nell'università. Questo hub di oggi non solo fa questo, ma fa girare tutto il progetto intorno all'innovazione, che è quello che permetterà sempre di concorrere sui mercati. Per quanto siamo in un'Unione Europea in cui crediamo e in cui condividiamo i principi che stanno alla base, dobbiamo anche sapere che i nostri amici stati membri europei sono dei concorrenti a volte anche spietati nella concorrenza internazionale. Quindi sappiamo che con questi investimenti, l'anno scorso abbiamo annunciato e firmato l'investimento da 130 milioni per ammodernare le catene di produzione, con questi investimenti noi permettiamo a Leonardo di battere i concorrenti e sapere che battere i concorrenti o vincere delle gare nel mondo significa dare più posti di lavoro non in giro per il mondo, ma qui in stabilimenti come questo e come tanti altri in Italia da nord a sud ti fa anche essere contento e fiero del lavoro che fai, perché il Ministro degli Esteri lo si immagina solo sul fronte giustamente delle politiche estere, ma c'è anche tutto il fronte della diplomazia economica che oggi a volte è il primo strumento che utilizzi per riuscire ad ingaggiare un Paese, ad instaurare una relazione con un Governo. E vi posso assicurare che in molti dei Paesi del mondo uno dei biglietti da visita che permette all'Italia di avere una grandissima reputazione è la capacità delle proprie aziende e a volte in momenti storici queste aziende ci sono state quando governi nel mondo erano in difficoltà e hanno saputo sfruttare lo spirito italiano che è sempre quello di un approccio solidaristico e di aiuto e mai speculativo per riuscire a vincere contro competitor che magari avevano anche un'offerta economica migliore, un prodotto migliore, ma non avevano l'anima. Queste sono aziende con l'anima. C'è un grande tema, non tanto quello della fuga dei cervelli, ma della mobilità dei cervelli. In Italia spesso siamo poco attrattivi, va bene che i ragazzi vadano fuori ma dovremmo essere capaci anche di importare dei cervelli. Questo è un primo passo, un passo importantissimo questo di oggi. L'abbiamo visto anche per esempio con altre accademy nel territorio napoletano. Cosa ci riserve il futuro? Io credo che prima si faceva una discussione sul fatto che serve offrire lavoro di qualità però io credo che nell'epoca dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie il lavoro non potrà che essere lavoro ad alto valore aggiunto perché quello a basso valore aggiunto lo faranno sempre di più macchine e intelligenze artificiali. Ora abbiamo visto che per fortuna grazie alle slide di Roberto abbiamo ancora un po' di tempo per farci battere dall'intelligenza artificiale perché siamo ancora a livello non del sapiens sapiens però quello che possiamo vedere sul futuro è che la formazione sarà fondamentale. Gli investimenti nella ricerca e sviluppo permetteranno alle maestranze anche di una fabbrica come questa di stare sempre al passo con la concorrenza. Quando si faranno gli investimenti e per questo ringrazio il Ministro Patuanelli per aver mantenuto l'impianto degli investimenti che era stato avviato al Mise quando si faranno gli investimenti sulle nuove catene di montaggio che tra l'altro prevedevano e prevedono degli sviluppi sull'intelligenza artificiale grazie ai team che anche qui svilupperanno i nuovi meccanismi produttivi noi permetteremo alle maestranze di questa fabbrica di potersi aggiornare quindi di poter avere più competenze ancora e di metterli a servizio di un prodotto che può essere ancora più competitivo. Noi in tutto il mondo permettiamo anche con le relazioni dello Stato italiano di poter arrivare sul mercato con prodotti Leonardo e tanti altri prodotti che come si diceva prima sono prodotti legati alla nostra innovazione, alla nostra sicurezza sono prodotti che consentono anche ad altri Stati di poter implementare la propria industria della sicurezza io lo vedo molto spesso con altre aziende, non solo con Leonardo molti Stati dicono noi non abbiamo il know-how per fare quella cosa o ci permettete di incontrare i vertici delle vostre partecipate oppure noi impiegheremo forse 30 anni per arrivare al livello del prodotto che voi fate in Italia questo livello non lo dobbiamo perdere e quindi significa stare sempre un passo in avanti e investire in nuove tecnologie poi l'innovazione è una cosa, lo diceva la dottoressa che prima moderava il panel precedente oggi con chiunque parli, io ho parlato col Presidente della Repubblica algerina, tunisina persone comunque in avanti con l'età, tutti ti parlano di innovazione e start-up innovazione e sviluppo, tutti sanno che per evitare che i loro giovani se ne vadano dal loro paese devono investire in innovazione, quindi l'innovazione è diventata un linguaggio internazionale che consentirà anche di abbattere una serie di barriere anche diplomatiche anche di relazioni politiche tra Stati che magari hanno avuto tensioni in passato Sfide globali, sfide europee e poi sfide nazionali il Sud ci siamo già incontrati, ho discusso di questo una volta Cuba ha solo il 10% delle esportazioni Leonardo è una grandissima azienda esportatrice italiana come si migliora questo dato? Io credo che su questo dovremmo lavorare molto, non su aziende come questa perché queste hanno competenze, capacità e anche una certa aggressività per andare sui mercati esteri, il vero grande tema è la formazione dei piccoli e medi imprenditori che non per colpa loro non conoscono una serie di tecniche e una serie di strumenti che gli possono consentire di andare sui mercati stranieri ora non vorrei che sembrasse un evento qui totalmente asettico rispetto a quello che sta accadendo fuori noi siamo ovviamente molto preoccupati per le ricadute economiche soprattutto sull'interscambio commerciale di quello che sta avvenendo nel mondo prima ancora dell'intensificarsi della crisi sul coronavirus qui in Italia noi eravamo già preoccupatissimi perché aveva colpito i mercati cinesi e a domino avrebbe colpito l'interscambio mondiale questa è una cosa che ci preoccupa il 3 marzo faremo una riunione straordinaria al Ministero degli Affari Esteri con tutti i soggetti che si occupano di esportazioni pubbliche e privati perché dobbiamo approntare subito un piano straordinario per le esportazioni perché l'Italia ha il 32% del proprio prodotto interno lordo che viene dalle esportazioni per non parlare poi degli investimenti stranieri in Italia che rappresentano circa il 15-20% del nostro prodotto interno lordo aggiungiamoci il turismo che è intorno tra il 5 e il 10% del nostro prodotto interno lordo questi 3 asset fondamentali sono al centro della crisi che purtroppo questo rischio epidemia causerà io credo che su questo bisogna essere prima di tutto responsabili su come si comunica l'ho detto prima di tutto ieri alla stampa estera, l'ho detto a tutti le istituzioni devono comunicare in maniera responsabile perché possono dare un'impressione sbagliata e causare danni all'economia, al turismo capisco che ci sono dei governatori che hanno una particolare apprezzione però poi mi chiamano e mi dicono eh ma quel paese ci ha messo nella black list con lo sconsiglio così si chiama di venire in vacanza nella nostra regione è logico, se chiudi inutilmente le scuole quando nessuno te l'ha chiesto dai l'impressione di essere una regione in emergenza e ancora così andando avanti la cosa che stiamo verificando in questi giorni è che c'è una crisi che dobbiamo affrontare ma non dobbiamo dimenticare che riguarda delle aree circoscritte del territorio lo 0,4% del territorio nazionale di questo stiamo parlando circa 10 comuni su 7.904 e se manteniamo il sangue freddo e reagiamo come sistema Italia possiamo rilanciare il brand dell'Italia nel mondo se invece cominciamo a fare allarmismi quando non serve comunicheremo all'estero che la situazione è più grave di quella che è oggi io ringrazio il Ministro della Salute tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali nelle strutture di ricerca per affrontare l'emergenza del coronavirus ma attenzione perché i danni economici se non ci rendiamo conto di quello che può arrivare da una comunicazione irresponsabile potrebbero essere altrettanto gravi ed è per questo che abbiamo già stanziato 300 milioni per il piano straordinario del Made in Italy e 350 milioni nel fondo Simest che è quello che poi sace Simest che consente anche ad aziende come questa di avere le garanzie per esportare su mercati stranieri sono degli stanziamenti che abbiamo appena fatto e adesso ci vedremo il 3 marzo alla Farnesina per stabilire come spenderli perché dovremo spenderne bene fino all'ultimo euro Leonardo ha lanciato un programma molto importante si chiama LIP 2020 è un programma destinato alle piccole e medie imprese affinché non siano completamente subalterne alle commesse di Leonardo è un programma ambizioso che rende autonome quelle realtà che spesso sui territori possono andare in difficoltà in momenti come questi in momenti in cui ci sono delle congiunture internazionali che non riescono ad affrontare un passo importante quali sono le vere sfide per queste aziende che operano sul territorio anche in questo contesto io credo che la conosciamo tutti molti dei presenti conoscono la storia del nostro territorio molte aziende sono nate perché legate ai grandi stabilimenti lo sforzo che sta facendo Leonardo e lo condivido pienamente è cercare di dargli una vita al di là delle commesse dei grandi stabilimenti è un piano ambizioso che permette anche una rotazione delle aziende che possono partecipare alle forniture possono partecipare a questo grande indotto Leonardo su questo territorio come altre aziende ma oggi siamo qui e parliamo di Leonardo ha rappresentato un boost per la creazione di tante nuove aziende il problema è che poi molte di queste aziende quando avevamo dei cali di produzione andavano in maniera simmetrica in crisi dobbiamo cercare invece di dargli una grande opportunità di rilanciarsi e su questo ancora una volta le esportazioni se il sud contribuisce solo per il 10% vuol dire che abbiamo un grande margine sulle esportazioni per portare prodotti ben fatti sui mercati mondiali un'ultima battuta in chiusura ministro degli affari esteri della cooperazione ma soprattutto è anche cittadino di questi territori che cosa si prova da chi ha voluto fortemente questa cosa da chi era qui un anno fa e lo vede realizzato oggi? questo è un primo passo ma il grazie va a tutte le persone che hanno lavorato devo dire che ci hanno lavorato in tanti a partire da Alessandro Profumo dal Presidente De Gennaro e da tutti coloro che poi a vario titolo hanno sviluppato questo progetto quello che possiamo augurarci è che sia come diceva Roberto Cingolani un seme oggi mettiamo un seme e dobbiamo farlo crescere curarlo con tanta attenzione e sono sicuro che questa sarà un'occasione uno per questo territorio ma anche per tanti giovani che avranno un'opportunità nel mondo di avere competenze non solo legate alla formazione universitaria ma direttamente applicabili nella fabbrica lì dove poi si concretizzano gli insegnamenti dove si concretizza la dottrina e credo che questo sia un vantaggio per un territorio che ha tante difficoltà ma proprio perché ha tante difficoltà qui i giovani si dice hanno il fuoco dentro perché partono da meno 10 e sanno che per arrivare più in alto devono risalire una china molto più difficile quindi io sono sicuro che l'idea dell'innovation hub l'idea degli investimenti nell'innovazione l'idea di questo hub qui a Pomigliano d'Arco permetterà a tanti di questo territorio di avere un'opportunità in più e su questo è stato un grande lavoro di squadra e devo ringraziare i ministri che sono qui presenti tutte le autorità le autorità locali le autorità regionali tutti quanti ci hanno lavorato e il grazie poi va a coloro che fanno sì che esista uno stabilimento come questo che sono le maestranze sono le persone che ci lavorano sono gli ingegneri i tecnici gli operai tutti coloro che ogni giorno ci fanno volare sugli ATR o che sviluppano progetti innovativi nei vostri laboratori nei vostri centri di ricerca grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi